Sola, Francesca Michelin che qualche anno fa vinse l'edizione di X Factor da giovanissima, tra l'altro aveva 16 anni, vi ricordo questo. Noi continuiamo ancora a parlare... Tra le varie cose, se mi permetto di aggiungere, alcuni testi sono scritti da Roberto Casalino, che è lo stesso che ha cominciato con Tiziano Ferro, un mio amico, un autore di Latina, che poi adesso scrive pezzi per praticamente tutti, da Giuseppe Ferreri a uno degli autori. Tra l'altro, fuori onda, mi stavi ricordando che c'è una mezza collaborazione anche con Anna Lu, che noi conosciamo bene. Sì, esatto. Io la conosco perché comunque ho un amico, che è lo stesso il produttore dei Modà, che si occupa anche di lei. Ecco, quindi... Che è Chico Palmosi, che ne approfitto per salutarlo, perché è uno dei miei migliori amici. Allora, stavi ricordando prima del 2005. Sì, oh madonna. E cosa ti ricordi di quell'anno? Ma ricordo che avevo questa aspirazione a fare la scrittrice. Mi ricordo che tutti mi dicevano, in particolare parenti, gli amici quelli che ti sostengono, mi dicevano, guarda che non puoi definirti scrittrice finché non pubblichi qualcosa. Ed era una sorta di cosa che mi fastidiva parecchio, perché secondo me la scrittrice era colei, non che scriveva la lista della spesa, ma comunque era una sorta di modus vivendi, di anima. Cioè, tu sei scrittrice se lo sei dentro, più se... Quindi questa cosa mi dava un po' fastidio. Quindi avevo un po' l'ansia di trovare l'editore. E soprattutto avevo l'ansia di trovare un editore che non mi chiedesse soldi. Perché ritenevo che fosse una cosa poco dignitosa. Che dietro al lavoro di uno scrittore c'era già una fatica profonda, ma non solo a livello di tempo, di tecnica, ma soprattutto a livello di anima, che non poteva essere valorizzata da doverci mettere dei soldi anche. E quindi ho avuto la fortuna, proprio nel 2005, che è stato l'anno di A Quattro Mani, che è stato il mio primo romanzo, di trovare questo editore, che si chiama Paolo Pedrazzi, ed è il mio editore attuale, che con tutti chiaramente i limiti di una casa editrice piccola, difficoltà distributive, difficoltà di vario genere, ha sempre creduto in me, mi ha sempre sostenuto. Non mi ha neanche chiesto dei soldi, nel senso che gli ho mandato il manoscritto, gli è piaciuto, ha ritenuto che fosse un'autrice valida, e in questi anni mi ha sempre supportato con quelli che possono essere i mezzi di una casa editrice che non è certo la Mondadori. Però sono molto contenta, perché io e lui non ci conoscevamo, non è stato un contatto tramite conoscenze, tramite raccomandazione, è stato proprio un incontro tramite uno scritto. Lui gli è arrivato nel romanzo, l'ha visionato, gli è piaciuto, e da lì è nata la collaborazione e la conoscenza. Molto bene, molto bene. Io volevo farti una domanda un po' stupida. Le altre non erano, tanto per capire. Mi piacciono quelle stupide, sono le più interessanti. Penna, computer... Eh, un tempo penna. Un tempo prima penna e il computer non c'era per assurdo, nel senso che io scrivevo macchina. Macchina da scrivere. Assolutamente. Un Olivetti vecchissimo che ho ancora, non uso più, ma ce l'ho ancora. Ed era un casino, perché tra l'inchiostro e cambio, e tira fuori il foglio, è troppo ridere. Poi dovete andare a schiacciare, e dai, e fai starete. Dirlo ora sembra incredibile, perché se penso a quelli della generazione, magari anche solo di dieci anni, più giovani di me, non sanno neanche che cavolo è una macchina da scrivere. No, magari lo sanno, ma te la tirano dietro. Esatto, esatto. Ecco, poi è arrivato il computer ed è chiaramente tutto più facile, più facile correggere, più facile inviare i file, non esiste quasi più il manoscritto, nel senso letterale del termine. Diciamo che questa cosa qui delle nuove generazioni, dell'elettronica che avanza, dice da una parte è buona perché comunque ti aiuta magari in certe determinate cose, però aveva quelle cose che magari hanno tolto il piacere che uno aveva magari come solo scrivere, come dicevi prima, magari una lettera a mano. E' quella della lettera, una di quelle cose a cui io, ad esempio nei miei romanzi quasi sempre il romanzo si chiude con una lettera, perché credo che sia una delle cose più belle che ci siano, scrivere una lettera per esprimere dei sentimenti o per raccontare qualcosa, per comunicare anche. Io un tempo ero una grafomane folle, cioè avevo tipo 200 corrispondenti, lettere su lettere, Franco Bolli, la buca della lettere, l'arrivo del postino. Adesso il postino quando arriva ti porta le bollette e magari le raccomandate con le multe. Adesso è quello che ti arriva per posta, è un peccato. Io, cari ascoltatori, vi do il numero 0255773. Ripeto, 0255773. Se magari siete curiosi, volete fare una domanda alla nostra ospite di oggi, noi siamo qua, chiamateci e niente, lei risponderà alle vostre esigenze. Abbiamo meglio, il nostro ospite ha scelto una canzone, la vuoi annunciare tu? Certo, Tiziano Ferro con la differenza tra me e te. Via.